che ha un dominio molto eterogeneo, che comprende però tutti quegli organismi che sono costituiti da cellule eucariotiche, come per esempio gli animali o i vegetali. Poi abbiamo il dominio degli archea e dei batteri, che invece comprendono tutti quegli esseri viventi costituiti appunto dalle cellule procariotiche. Le dimensioni della cellula procariotica è compresa tra 1 e 10 micrometri, quindi sono cellule molto piccole. Sono cellule che presentano una membrana plasmatica che le definisce e in alcuni casi è possibile che sia presente oltre alla membrana plasmatica una parete cellulare e in alcuni casi ancora può essere presente oltre alla parete cellulare anche una capsula. All'interno troviamo il citoplasma, che è una sostanza gelatinosa dove sono disciolte diverse sostanze fondamentali per la sopravvivenza della cellula, come proteine o comunque altre molecole chimiche, tra i quali troviamo anche i granuli di riserva, che contengono tutte quelle sostanze fondamentali per la sopravvivenza della cellula. Sempre nel citoplasma è presente una molecola circolare di DNA. Questo viene definito cromosoma batterico e rappresenta l'intero materiale genetico della cellula procariote. Il materiale genetico si trova nel citoplasma, in una regione del citoplasma che viene chiamata nucleoide. Il nucleoide però non può essere definito nucleo, non è un organulo e questo è molto importante. Perché non può essere definito un organulo? Perché non è chiamato nucleo? Perché non è avvolto da membrane. Il cromosoma batterico si trova nel citoplasma, assieme a tutte le altre sostanze. Inoltre troviamo anche delle piccole molecole di DNA, sempre circolari, che vengono chiamate plasmidi. Queste molecole contengono informazioni aggiuntive che permettono un migliore adattamento della cellula. Un esempio è il plasmide che contiene l'informazione che consenta alla cellula di sopravvivere agli antibiotici e che quindi contengono comunque informazioni, come vedremo, che non sono fondamentali per l'esistenza, ma che appunto aiutano la cellula a un miglior adattamento nell'ambiente in cui si trova. Inoltre troviamo i ribosomi. I ribosomi non sono dei veri e propri organoni, li vedremo successivamente. Sono appunto delle strutture costituite da proteine e da quello che è definito RNA ribosomiale, quindi appunto da un acido nucleico. E diciamo che la dimensione dei ribosomi viene definita da quello che è chiamato coefficiente di sedimentazione, che ha un'unità di misura detta Svedberg. I ribosomi caratteristici della cellula prokaryotica hanno dimensioni di 70 Svedberg, di cui 50 Svedberg è la dimensione della subunità maggiore, mentre 30 Svedberg è appunto la dimensione della subunità minore. Ma queste cose le vedremo più nel dettaglio quando parleremo delle cellule eucariotiche. Quindi la cosa fondamentale da ricordare però è che nel citoplasma della cellula prokaryotica non sono presenti